Care amiche ed amici, sono giunte le festività natalizie e il momento di tracciare un bilancio dell'anno che si sta per concludere. Per quanto ci riguarda, il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni, abbiamo incrementato il numero dei nostri collaboratori di studio, abbiamo conosciuto tanti nuovi clienti che sono diventati i nostri amici, siamo usciti sulla stampa nazionale, abbiamo avviato la nostra campagna video e abbiamo raggiunto e superato la soglia delle 50.000 persone che ci seguono sui social network. Di questo vi ringraziamo di cuore. Il 2020 si presenta ancora più ricco di sfide e di opportunità, prima fra tutte l'apertura di un nostro ufficio a Milano per rafforzare la nostra presenza in ambito nazionale e per stringere ancora di più il rapporto di collaborazione che ci lega a vari studi di architettura. Quindi vi invitiamo a continuare a seguirci e a supportarci come avete fatto finora e auguriamo a voi e alle vostre famiglie buone feste e un 2020 ricco di gioia e di soddisfazioni. A presto!